è nato tutto in questo famoso 1969 in cui abbiamo iniziato la nostra attività e la nostra vita coniugale per me è stata una figlia living cioè non dico che veniva prima di tutto ma quasi insomma l'azienda quando sono arrivata io era lisonicentrica se si può dire io credo che il segreto del successo di living sia legato all'intensità della presenza della famiglia a un certo momento in avanti la living si è rafforzata a sufficienza è diventata sufficientemente credibile per poter cominciare a lavorare con altri e a venderli sono riuscita a portare in azienda altri designer se tu davvero hai un'idea è quella è la cosa importante bisogna urlarle le cose secondo me i prodotti silenziosi sono quelli che hanno vita quelli che durano di più e anche le aziende durano di più stiamo lavorando sul far capire che anche noi ci siamo ci saremo e possiamo solo migliorare mi rendo conto che il nostro prodotto è un prodotto che va al consumatore finale ad un certo costo e perciò deve essere perfetto alcune volte mi riguardo in giro dico ma mi sembra strano che siamo riusciti a fare queste cose è vero che l'ho fatta io questa cosa qui ragazzi mi pensi è vero che la prima cosa di tagliare dopo la nuova se è vero che la prima cosa di tagliare